www.feyyaz.tv Historia Italia www.feyyaz.tv 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 Conoscevano già i logobaldi nel primo e nel secondo secolo dopo Cristo. Poi, più avanti, perché il popolo logobaldo migra, secondo l'attività ufficiale, migra dal nord, dal scandinale, e migra verso giù, verso la Pannonia e poi verso l'Italia, in quel momento là ha contatto, specialmente il papoglio, ha contatto con l'impero d'Oriente. In quel momento là imparatamente vengono romanizzate, se posso usare questa termine che insomma non è mi piace tanto, è abbastanza chiaro. E qui imparano diverse cose, il concetto di capo, il concetto di regno e tante altre cose. Per esempio, Giustiniano donna loro un ferdo. Cos'è un ferdo? È una specie di regno. Questo regno viene dato a loro in Pannonia, come alleate del impero. Il regno dei Lombardi è precipitato di nuovo in una specie di anarchia in cui tutti uccidevano tutti. Cioè il potere era preso semplicemente per alterare i nemici di quel potente, ucciderlo e sostituirsi a lui. E' una specie di saga sanguinaria che voi potete leggere anche nelle prime pagine, come in tutta la storia, scritta da Paolo Bianco. Leggete durante questa istante la storia dei Lombardi, la istoria dell'archivatore. La trovate anche in edizione economica. Le frutenze vicino al territorio della Manoglia o del suo interno, che vengono legionate da Tone Procopio, possono essere, in base ai già molti sedimenti, riferibili alla popolazione indigena e ai già molti reperti logobardi, pubblicati, ubicati nell'area della città di Sissar fino alla valle della fiume Luglianza o addirittura fino alla fortezza Carnio-Cranio. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.